Gli azzurri sono tornati a casa, sì perché Bormio è culla dello short track italiano. Dagli anni 80 ad oggi un crescendo rossignano, tanti gli atleti cresciuti sportivamente al palaghiaccio, ragazzi e ragazze che poi hanno lasciato il segno nelle competizioni internazionali. Sono stati loro ad adecchire il medagliere tricolore. Il blocco valterinese da diversi anni in larga maggioranza, nelle nazionali maschili e femminili. E così quest'estate il pattinaggio di velocità su pista corta è tornato alle origini. Il glorioso impianto di Bormio è nuovamente centro federale, ruolo che negli ultimi anni è stato ricoperto da Courmayeur. Per ufficializzare l'accordo nella magnifica terra è arrivato anche il presidente della Federe Ghiaccio Andrea Gios. Ad accoglierlo il sindaco Roberto Volpato e il presidente della Bormio Ghiaccio Michele Cola, realtà che è parte integrante della grande famiglia dell'Unione Sportiva Bormiese. La scelta della federazione di riportare le due nazionali Ionio e Resenio a Bormio e il segnale al centro federale è sicuramente la conferma dell'altissimo livello tecnico raggiunto dalla struttura dove normalmente ci alleniamo. Gli atleti della nazionale Maggiore e di Juniores si alleneranno 150 giorni l'anno a Bormio. Questo è quanto prevede l'accordo siglato con la Federe Ghiaccio. Per il nostro club da sempre importante vi voglio della nazionale sarà sicuramente uno stimolo per tutti i ragazzini potersi confrontare con atleti di altissimo livello tecnico. Vedere sfrecciare sul ghiaccio gli azzurri sarà sicuramente un grande stimolo per le nuove leve dello short track. Ogni anno sono un centinaio i giovani che entrano nell'orbita della Bormio Ghiaccio. Un bel numero che dimostra come questa disciplina non solo abbia radici solide in valtellina ma sia riuscita anche a garantirsi il ricambio generazionale. Non sono voluti mancare alla cerimonia per il ritorno del centro federale il segretario generale Ippolito Sanfratello, il consigliere del settore velocità Luigi Sartorato, il presidente di Bormio Servizio Oscar Cola, il presidente di Bormio Terme Naide Falcione, l'assessore alla cultura di Bormio Luigi Azzalini.